Buonasera a tutti, benvenuti alla dodicesima puntata di Praline in TV. Questa, ve lo dico subito, sarà una puntata speciale, molto molto particolare. Di solito noi presentiamo in queste puntate gli artisti con cui lavoriamo, facciamo anche delle proposte commerciali, come giusto che sia, concentrandoci magari un pochino di più sugli aspetti caratterizzanti dello singolo artista. Ebbene, questa volta abbiamo deciso di parlare di noi, noi chi? Mandelli Arte. E quando dico Mandelli Arte intendo dire il sottoscritto e mia moglie. Mia moglie, Tantau di origine vietnamita, insieme abbiamo fatto veramente tantissime cose, lei mi accompagna da tanto tempo e insieme abbiamo organizzato mostre, abbiamo fatto fiere, abbiamo curato delle mostre, abbiamo proposto decine di artisti, abbiamo creato collezionisti. Ci siamo inventati, dodici anni fa, una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, una cosa che ci distingue da tutti. Ossia, ci siamo inventati una rubrica di divulgazione artistica, le praline prelibatezze dal mondo dell'arte, di cui probabilmente quest'anno festeggeremo la centesima puntata. Ossia, sono puntate monografiche, per chi non mi conoscesse, sono puntate monografiche, ossia ognuna dedicata ad un singolo artista, in cui cerchiamo di spiegare un po' lo stile, le caratteristiche, l'origine dello stile, quindi parliamo anche della biografia dell'artista, parliamo della sua visione del mondo, tutto questo per cercare di divulgare con le parole più chiare possibili, vogliamo fare da tramite appunto fra l'artista e il collezionista, fra l'amante dell'arte. Ricevo anche tante testimonianze da studenti dell'Accademia, a questo proposito, insomma, devo dire, io ripeterò spesso questa parola, orgoglioso, siamo orgogliosi perché siamo entrati diverse volte in tesi di storia dell'arte o comunque di comunicazione dell'arte, l'Accademia di Brera in particolare, insomma, è un bel risultato. Ora, ho parlato delle mie praline, però forse non tutti sanno che esiste anche una versione inglese, curata da mia moglie. Mia moglie, Liti Tantau, è un anglista, cioè è laureata in lingua e letteratura inglese e americana, e si è presa l'incarico di realizzare le praline in inglese, pralines, deliciousness from the world of art. Anche lei ha fatto parecchie puntate, quindi io direi prima di tutto di visionare una di queste puntate, dedicate in questo caso a Walter Valentini, un personaggio che ci è rimasto veramente nel cuore, aveva un bellissimo rapporto, un artista straordinario, bravissimo, eccezionale, veramente un grandissimo maestro. Bene, direi di passare alla visione della puntata dedicata a Walter Valentini, condotta da mia moglie Tantau. Ci vediamo dopo! Ciao a tutti, benvenuti a Pralines, deliciousness from the world of art. Il protagonista di questo episodio è Walter Valentini, born in Pergola, in the Marca region, in 1928. Quando Valentini was a child, he used to wander the streets of his small village and remained fascinated by the vaulted doorways behind which, as he imagined, lay hidden wood, at times poor and barren, at times magical and glittering. Another episode worth mentioning is when Valentini is kept in bed during an attack of tonsillitis. He spends hours looking at the ceiling beams and out of the window at the cracks and wall. During the war, young Valentini takes part in the partisan movement where he encounters Albert Alcali, a Serbian painter who gives him a trip of white color. This simple gesture, to some extent, has sealed his destiny. Soon after the war, he has the opportunity to move first to Rome, then to Milan, to attend the Convicto Rinascita, a professional school with secular imprints where he gets connected with high-profile personalities such as Pietro Consacra, Giulio Toccato, Max Huber, Luigi Veronese, and Amber Steiner. Yet, Valentini continues to nurture a deep nostalgia for his native land. He thus enrolls at the Institute of Fine Arts in Urbino where he learns the techniques of engraving and printmaking and where the Renaissance atmosphere reigning over the Montefaundro Palace is pervading. At the end of his studies, he decides to get back to Milan where he has been working in the advertising field for 15 years. He would make a brilliant career if it were not for the irresistible urge of his secret passion for painting. Then, with the support of the art critic Guido Ballo, Valentini steps into the spotlight as a painter. His first solo show was held in 1974. The artist was 46 years old, an unusual age to kickstart a career. Yet, his work catches public attention thanks to its originality. In the background of his paintings, there appear the interplay between various tones of the dark gray color and several geometric signs such as circles, semicircles, triangles. There is also the integration of traces of red and yellow, but mostly blue colors. Valentini's direct depth is to Luigi Veronese, who confer the geometric abstraction with a unique lyrical note and through whom Valentini's art can be traced back to Russian constructivists. What's more, Scannavino may also exert some influence on Valentini, which is featured through the partition of space into square forms. It's around the 80s that Valentini's art takes on a decisive turn with the incorporation of two fundamental elements. The first element focuses on time, represented by rhythmic scans recalling those of electrocardiograms, even though his intention is to coordinate those pensations, or more precisely, the partition of time with a rigorous metaphysical order. The second element, probably derived from the cracks in wounds Valentini observed when he was a child, focuses on the fracturing of the uniformity of the background of his paintings, which can be interpreted as a sort of passage leading to a further dimension of the human experience. His association of ideas has the potential to elevate the image of the cracking to a cosmic level, which is consequently evocative of constellations and galaxies. Semicircles are recurring motifs that bring to mind the outline of wanted doorways like those that once in front of Little Valentini and behind which, this time, a mysterious and intriguing universe has been unfolded. The repeated use of semicircles can further hark back to the Renaissance arcades as those realized by Laurana in Urbino. This feature is best shown through the beautiful series of works dedicated to the fire in the borgo by Raphael. While the great Renaissance master faced the challenge to maintain the rigor and harmony, dominating the stanza della signatura to enliven a scene characterized by movements and chaos, Valentini adheres to the compositional order, an order that corresponds to the Divine One and thus obeys the laws of the universe. Valentini's works also impressed sections of cones and ellipses that evidently allude to celestial bodies underlined by traces of gold leaf. His elegant and refined approach to art wins him high appreciation from the protagonists of culture, such as Hans Ritter, Paolo Von Pony and especially Mario Luzzi whose poems are illustrated by Valentini's valuable edition graphics. All the editions are dedicated to La città dei sole of Tommaso Campanella to l'infinito of Giacomo Leopardi to the writings of Galileo Galilei and so on. I wish not to have my feet on earth, Valentini states. He is a peaceful transcendence of an artist who is used to gazing up at the sky rather than looking at the earth, who seeks to discover in the world, in nature and in art, those passages that can broaden his horizons, and who delights himself in sharing with us this experience. I stop here. Thank you for listening. Don't miss the next episode of Prolin's Deliciousness from the World of Art. E' brava Tantau, dite la verità, anche se non capite l'inglese, avete visto quanto è brava, quanto è grande la sua professionalità, la sua preparazione, insomma, sono orgoglioso, oggi la ripeterò tante volte questa parola. Tutte le puntate di Praline le trovate sul nostro canale YouTube, Mandelli Arte, basta cercare, le trovate tutte. E ora, ci sono tanti bravissimi studiosi, giovani studiosi che fanno divulgazione artistica in rete. Diciamo che quando abbiamo cominciato noi, dodici anni fa, eravamo un po' dei precursori e quindi questa cosa è un titolo di merito, anche perché non mi risulta che vi siano delle rubriche che si possano paragonare a quello che facciamo noi. Ogni tanto mi arrivano delle segnalazioni, anzi, una cosa che mi piace è che realizzando queste puntate di Praline in TV, questa avventura televisiva, mi scrive la gente diceva che io ti conosco da anni perché seguivo le tue Praline e mi sono servite anche per lo studio, per conoscere meglio l'artista, per avere conferma della bontà dell'artista in vista di un acquisto e così via. Benissimo, tramite la TV c'è un rapporto diverso di conoscenza anche perché tramite i riferimenti, numero di telefono e indirizzo e mail potete scrivermi e prendere contatto direttamente con me. Bene. Andiamo oltre e volevo parlarvi di un'altra cosa, si tratta di questo, allora, fra i tanti artisti a cui abbiamo dedicato una delle nostre Praline ce ne sono diversi che hanno voluto renderci delle testimonianze positive sul nostro operato, ne presentiamo tre in questa occasione la prima è di Mister Save the Wall Pierpaolo Perretta uno degli artisti più desiderati dal mercato in questo momento ma non solo è anche una persona molto intelligente una persona culturalmente preparata quindi partecipe del dibattito culturale che si sta svolgendo in questo momento quindi anche attraverso la sua opera cerca di prendere posizione su alcuni elementi anche teorici riguardanti la storia dell'arte ma poi quando uno riesce a trovare un soggetto che diventa una vera e propria icona veramente stiamo parlando di qualche cosa di importante nel senso che lui ha creato questo famoso manager con la faccia da ranocchio e l'avete visto dappertutto nel centro di Milano c'è stato per mesi con diverse fattezze e quindi è anche uno dei soggetti più desiderati dal mercato appunto quindi lascio la parola a Mr. Steve DeWall e ci rivediamo dopo caro Sergio grazie per avermi fatto entrare nella storia dell'arte attraverso le tue praline sono davvero una chicca quella che tu chiami la prelibatezza del mondo dell'arte sono davvero orgoglioso di essere stato messo da te a fianco di mostri sacri idoli indiscussi punti di riferimento anche per me per questo voglio dirti grazie sei una persona autentica e profonda Pierpaolo Ferretta nato a Como il 12 agosto 1972 sotto il segno del leone passiamo ora alla seconda testimonianza rilasciata da una persona che a noi è molto cara oltre che essere un bravissimo artista Omar Gagliani che riduce da una mostra che definire grandiosa direi che è poco perché? perché è una mostra realizzata a Palazzo Reale a Milano l'estate scorsa una mostra che tutti quelli che l'hanno vista l'hanno considerato una cosa straordinaria strepitosa una mostra che ha definito una volta per tutte il fatto che Omar Gagliani è un artista fra più importanti della scena mondiale questo io continuo a dirlo guardate che Omar Gagliani ha una importanza è uno degli artisti più importanti che ci sono al mondo quindi io vi farei vedere per rendervi partecipe di questa emozione di questa sensazione vorrei farvi vedere un breve servizio che io ho realizzato all'interno della mostra e di Omar Gagliani dura poco un minuto che è realizzato in collaborazione con Arte Investimenti ci vediamo dopo mi trovo nel Palazzo Reale di Milano all'interno della mostra Diacronica il tempo sospeso si tratta di una antologica di Omar Gagliani curata da Flavio Caroli e Vera Agusti in cui sono esposti molti dei suoi lavori più importanti realizzati nel corso della sua lunga carriera si comincia con i lavori degli anni 70 quando risente ancora del clima dell'arte concettuale si prosegue con i capolavori dell'anacronismo fino al trionfo del disegno divenuto poi il suo strumento espressivo di lezione il percorso espositivo tuttavia è stato organizzato privilegiando una suddivisione tematica a quella cronologica si va secondo la definizione del curatore Flavio Caroli dall'universo simbolico all'universo mitico a quello psicologico quello erotico quello scientifico e quello paesistico le sue opere prendono ispirazione dalle situazioni più varie della realtà che ci circonda ma il disegno di Omar Gagliani è in grado di trasferire la quotidianità in uno spazio in cui si celebra un ideale di bellezza senza tempo è una mostra imperdibile un'occasione unica per ammirare alcune delle opere più significative dell'arte italiana degli ultimi decenni ho appena visto praticamente quest'ultima pralina tradotta da Tantaro in inglese quella in italiano fatta con te Sergio era già così ormai nota e diffusa trovo questa biografia di immagini così riscaldate anche da una voce e si propone di analizzare scandagliare il lavoro in pochi minuti quello che normalmente avviene mai in un libro non so le monografie poi le monografie da reggio sono anche tanto lunghe a volte complesse anche un po' non così sintetiche come invece avviene in questo caso e questa sintesi della pralina la trovo veramente efficace divulgativa piena di anche di sapori e di miscellane tra immagine testo questo dinamismo anche di presentare il lavoro mi sembra veramente straordinario grazie benissimo passiamo ora alla terza testimonianza devo fare una piccola premessa allora io ci metto sempre la stessa passione e lo stesso entusiasmo quando realizzo le mie praline questo lo devo sottolineare tre volte tutte le volte che mi prendo l'impegno di realizzare un filmato divulgativo a favore di un artista l'impegno è sempre lo stesso poi succede che con alcuni artisti si arriva ad avere anche un rapporto personale magari anche denotato da amicizia da una più profonda intesa personale detto questo abbiamo però ottenuto una testimonianza che ne surclassa tutte le altre perché questa è una testimonianza che quando l'abbiamo ricevuta il soggetto in questione aveva 106 anni di vita sto parlando di uno dei mostri sacri della cultura italiana sto parlando di Gillo Dorfless il quale è stato un grandissimo professore di estetica esperto di arte studioso del costume ma aveva anche una particolare attenzione alla produzione creativa ossia gli piaceva realizzare delle opere d'arte forse non è così conosciuto però ha avuto una sua storia assai importante benissimo io ho realizzato una puntata dedicata all'opera di Gillo Dorfless ebbene alla fine lui ha voluto rilasciare questa piccola testimonianza che però per noi è veramente molto 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 preziosa stiamo ad ascoltarlo il risultato di questo film mi pare veramente eccezionale non solo dal punto di vista visivo ma anche per la sequenza dei concetti che dà un'idea devo dire eccezionale del mio pensiero quindi io sarei veramente felice se potesse essere divulgata abbastanza per arrivare a un pubblico più vasto quindi ci sarei moltissimo che potesse essere inclusa in un programma televisivo e insomma diciamoci la verità avere una testimonianza del genere è tanta roba come si dice in gergo è tanta roba non è che capita tutti i giorni del resto noi siamo un po' specializzati nel creare eventi unici in particolare dopo ci arriviamo una cosa che volevo segnalare è la mia attività che svolgo su facebook soprattutto sui social network io prediligo facebook perché è quello che mi permette di più di esprimermi attraverso la scrittura e mi permette magari di entrare a fare e facendo anche delle riflessioni un po' più approfondite tante volte la considero una mia palestra di scrittura ora fra le cose che mi piacciono di più io faccio questo mestiere per passione essenzialmente se non avessi la passione non farei questo mestiere andrei a vendere qualcos'altro sicuramente ma date le mie caratteristiche una delle cose che mi piacciono di più nella vita dovete sapere che è andare a trovare le artiste nel loro studio è una cosa che mi piace tantissimo soprattutto andare a rovistare fra le cose più vecchie andare a vedere gli inizi confrontarmi con l'artista mi piace tantissimo ebbene ogni tanto capita che visitando lo studio di un artista ne faccio anche un resoconto su facebook un resoconto che poi è una pagina di critica che gli artisti stessi possono utilizzarlo magari per pubblicarlo su un catalogo o come presentazione della loro attività eccetera per cui è una cosa che io faccio molto molto volentieri quindi sono a disposizione Mandelli Arti a disposizione anche per questo detto questo passiamo al prossimo capitolo oggi è una puntata molto ricca ebbene fra le tante cose che già facciamo ogni tanto ci capita anche di curare delle mostre fra queste ve ne segnalo solo una che però ha le caratteristiche dell'eccezionalità nel senso che si tratta di uno dei fotografi più importanti della storia Nick Outh magari a molti di voi il nome dice poco però se vi faccio vedere questa foto capite subito di che cosa si tratta si tratta di una delle fotografie più importanti della storia che è valsa a Nick Outh il premio Pulitzer 1973 dunque noi avevamo conosciuto Nick Outh a una fiera in Svizzera e lui ci aveva chiesto candidamente se potevamo organizzare una mostra personale a Milano in occasione del cinquantesimo anniversario della foto ma soprattutto se potevamo procurargli un appuntamento col Santo Padre Papa Francesco a cui lui avrebbe voluto regalare omaggiare una copia della sua foto firmata ebbene noi ci siamo messi all'opera abbiamo messo in piedi tutto quanto e siamo riusciti nell'impresa a cominciare dalla mostra straordinaria appunto che si è realizzata a Palazzo della Regione Lombardia a Milano nel mese di maggio del 2022 a cui ha partecipato anche Kim Fook la ex bambina che nel frattempo è diventata una donna molto attiva nel campo della promozione della pace anche lei è una donna assolutamente straordinaria ebbene io vi farei vedere un piccolo filmato che raccoglie alcune foto che ho montato per rappresentare un po' per far vedere un po' la settimana che è stata caratterizzata sia da momenti istituzionali ma anche da momenti direi molto molto piacevoli ci vediamo dopo un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.